... Giovedì 5 marzo, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV. L'appuntamento con l'informazione alle 7 del mattino. C'è la rassegna stampa o che giornale in diretta sul canale 17 ma anche su internet, su Facebook per esempio. So che siete in tante anche questa mattina a seguirci. Allora cominciamo dal Santo, poi il tempo e vediamo subito i titoli delle notizie più importanti. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Adriano di Cesarea. Il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà due minuti dopo le 18. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso oggi con temperature minime in marcato calo. Infatti fa freschino questa mattina mentre le massime saranno in leggero aumento. Per la giornata di domani avremo pioggia al mattino con diffuse precipitazioni lungo la fascia montana e sparse lungo la fascia costiera dove assumeranno prevalente carattere di rovescio. Quindi attenzione nella giornata di domani. Fenomeni deboli e locali durante la parte del resto della mattinata, quindi il pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 7 marzo c'è anche la neve. Vedete nel sud della regione con il limite delle nevicate attorno ai mille metri mentre la giornata di domenica sarà comunque una giornata che andrà in miglioramento. Andiamo subito a vedere i giornali. Cominciamo dalla prima pagina nazionale del resto del Carlino ma serve solo per sdrammatizzare perché poi comunque leggeremo tante notizie sul coronavirus. Eccola qua la fotonotizia. Quando finisce un amore Silvio Berlusconi lascia Francesca Pascale tra noi solo affetto. Dice lei sono rimasta stupita, spunta l'ombra di una nuova fiamma. E adesso andiamo alle pagine del resto del Carlino di Pesaro con la foto di Ceriscioli, il governatore che dice avevamo ragione noi. Scuole chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia, la rivincita di Ceriscioli. Su questo dobbiamo dire che è vero, Ceriscioli ha sicuramente ragione. Gli è andata un po' male la settimana scorsa perché è capitato tutto quello che è capitato in un momento sbagliato dal punto di vista politico per quanto riguarda il governatore. Altrimenti possiamo dire che aveva ragione davvero Luca Ceriscioli e probabilmente si è confrontato appunto, aveva le idee ben chiare e aveva le persone giuste accanto a lui per arrivare a prendere una decisione importante che però è stata presa in un momento sbagliato perché c'era il discorso delle regionali, il discorso della politica quindi si è fatto, come dire, un discorso sull'azione sua di governo un po' particolare che era sbagliata compreso l'analisi che ho fatto io personalmente quando ho parlato di una firma, di un decreto, quella volta 9-10 giorni fa una firma di un decreto per salvarsi la faccia non era così, aveva ragione Luca Ceriscioli quindi diamogliene atto e quindi è una rivincita anche morale che è giusto che sia così quattro morti invece, un bambino tra i contagiati, altre due vittime una città, una vittima a Pesaro e una a Dancona e spunta il caso positivo in una materna a Vallefoglia dove vedremo tra poco c'è appunto un bambino o forse una bambina tra i contagiati l'emergenza in ospedale, rivoluzione, ecco la quarta rianimazione mentre c'è il viaggio del resto del Carlino nelle città in isolamento chiusa un'intera palazzina dove tutti sono costretti a restare in casa titolo invece del Corriere Adriatico ospedale unico per i contagiati la regione sta pensando di tenere in una sola sede le persone colpite dal coronavirus ipotesi a Torrette di Ancona aumentano i malati, 97 tra cui una bimba e decessi che sono quattro in tutta la regione rianimazione e sofferenza mancano i medici Marche, tutto chiuso fino al 15 questa è la fotonotizia su tutte le edizioni del Corriere Adriatico una bambina è positiva, la classe è in isolamento una bambina che frequenta una scuola materna dell'Interland pesarese siamo a Vallefoglia lo scrive poi anche il Carlino è successo nella giornata di ieri immediatamente sono scattate le disposizioni del servizio di igiene e sanità pubblica sia il personale della scuola dell'infanzia che i bambini della stessa sezione della piccola sono stati posti in condizione di isolamento domiciliare fiduciario e verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria sotto invece, anzi no nell'altra pagina nell'altro giornale emergenza Covid-19 tra le vittime in provincia ha contagiato pure un bimbo il resto del Carlino resta un po' più non dice se è una bambina o un bambino resta vago si tratta di un minore comunque che frequenta la sezione balene della scuola di infanzia Regina Reginella uno in Vallefoglia a comunicarlo è stato il dirigente che nel pomeriggio di ieri ha diramato una nota in cui appunto riferiva a questo contagio intanto sono 97 i marchigiani affetti dal virus di cui 79 nella nostra provincia ovvero una provincia di Pesurbino 501 persone sono in quarantena e questa è la pagina del resto del Carlino tra l'altro c'è spazio anche per questa nota che vi abbiamo dato anche nel telegiornale di ieri che per il Parlamento europeo Pesaro praticamente è come la Cina Hong Kong, la Corea del Sud siamo in sostanza pericolosi potenzialmente contagiosi dobbiamo stare insomma alla larga lo si capisce da questa nota che l'Europarlamento ha diffuso tra i suoi funzionari, collaboratori e membri degli staff una nota che parla molto chiaro tra l'altro e dice la provincia di Pesurbino così come quella di Savona viene inclusa tra i focolai di Covid-19 che si sono creati negli ultimi giorni in alcune zone della Francia e della Germania zone a rischio dunque per le quali servono accorgimenti ben precisi dove si invita per esempio se uno viene dalla provincia di Pesurbino a stare almeno 14 giorni in casa quindi questo è un po' il senso di questa nota però è bene ricordare che Pesaro la provincia di Pesurbino non è in zona rossa lo ricordiamo perché ieri si è fatta confusione tra l'altro a generare ancora di più confusione c'è stata anche una trasmissione televisiva sulla RAI la vita in diretta del pomeriggio a un certo punto un ospite ha parlato di Pesurbino come di una provincia collocata in zona rossa assolutamente falso non è così e vedremo anche perché Marche, 97 infetti e 4 morti contagiate anche una bimba questo è il titolo sempre dal Corriere Adriatico altri due anziani invece vittime del Covid-19 all'Inerca di Ancona e all'ospedale Marche Nord di Pesaro il governo chiude le scuole in tutta Italia fino al 15 di marzo il Ministero invita laddove è possibile a organizzarsi con delle lezioni a distanza sul web intanto il virus diffuso specie al nord l'80% dei casi viene da Pesaro e Urbino processi penali rinviati le curie si dividono invece sulle messe pubbliche come abbiamo visto nella Regione Marche anche i Vescovi hanno agito in occasione di questa seconda ordinanza un po' in ordine sparso qualcuno ha detto come per esempio Spina della Diocesi di Ancona l'Arcivescovo ha detto no le messe feriali si possono fare l'importante è che i fedeli si mettano a distanza di sicurezza tra virgolette almeno di un metro quindi le messe feriali nella Diocesi di Ancona si potranno fare diverse invece le cose nella provincia di Pesaro Urbino dove la metropolia le ha sospese in toto quanto manca per il picco dei casi positivi? quanto manca? siamo al nono giorno del coronavirus qui nelle Marche i tecnici sanitari della Regione hanno in mano una previsione sulla crescita dei casi positivi? non si sa fino a quando dovremmo stare in angoscia aspettando il bollettino giornaliero? la stima parla di crescita almeno fino alla fine di questa settimana le previsioni consegnate ai Ceriscioli parlano di picco per la giornata di domani già otto giorni fa le Marche hanno blindato scuole e manifestazioni quindi il contenimento dovrebbe essere tangibile ma la cautela impone di allungare il termine per il culmine dei casi positivi la dinamica della nostra Regione purtroppo non è ancora inquadrabile dunque dovrebbe essere domani ma potrebbe anche non essere così poi sempre dai giornali l'ospedale unico si parla di questa struttura per i pazienti positivi al Covid la scelta della Regione si sta orientando su un'ala di torrette oggi inizia la sistemazione dei container per il pre-triage per evitare l'accesso dei pazienti infetti al pronto soccorso cambia ancora invece la viabilità nella cittadella sanitaria lavoro in corso per il nuovo Salesi di Ancona rivoluzioni ospedali c'è la quarta rianimazione invece a Pesaro a Marche Nord proseguono le modifiche organizzative per affrontare l'espansione del virus sospesa l'attività chirurgica programmata pediatria e ostetricia invece solo a Pesaro gira da qualche ora sui social anche un cartello dove c'è scritto non nasceranno più fanesi in effetti si nascerà solo a Pesaro e dunque almeno fino alla fine di questo mese dopo bisognerà vedere se si continuerà nel tempo oppure tutto ritornerà come prima del coronavirus nel reparto infettivi aggiunti infermieri e un os in tutto sono circa 40 i posti letto per accogliere le persone malate di coronavirus medici di base invece in isolamento il numero deve farci riflettere dice il segretario dell'ordine sono 17 i medici che sono praticamente fuori uso passatemi questo termine nel senso che non possono essere all'opera e quindi sono a riposo e 19 sono troppi difficile anche visitarli sotto anzi no qui di spalla per le urgenze le nuove regole a Marche Nord chiusi gli sportelli di prenotazione al San Salvatore e anche al Santa Croce scuole un'altra settimana di chiusura l'emergenza fa slittare la riapertura dunque abbiamo visto non più l'8 ma il 15 di marzo il decreto suggerisce la didattica a distanza per non compromettere l'anno scolastico la preside dell'ITIS Gelardi dice ora le scuole si finanziano servono investimenti da parte della politica un genitore invece aggiunge le lezioni da casa sono fondamentali attrezziamoci anche se qualcuno invece suggerisce soprattutto tra i bambini quelli che fanno le scuole le scuole elementari suggeriscono ai professori di non caricare troppo i bambini perché poi le mamme non riescono lavorando non riescono a seguirli e quindi insomma diventa tutto ancora più faticoso tutto più rischioso come vedete sono tante le esigenze sono tantissime quando si cambiano le abitudini si stravolge un po' tutto diventa ancora più difficile gestirsi stop alle riunioni tra i docenti per non diffondere il contagio le sigle regionali chiamano in caso all'ufficio scolastico e chiedono al prefetto di far rispettare il decreto è rischioso convocare colleghi docenti e incontri di formazione noi invece murati in casa per il coronavirus sempre da Pesaro sono circa 450 i pesaresi costretti nel proprio appartamento in quarantena è stata isolata pensate anche un'intera palazzina nel quartiere di Pantano oltre 20 richieste di interventi per sintomi sospetti il pronto soccorso praticamente assediato a Gabice Mare invece sono positivi e vanno a spasso con il cane coppia in centro denunciata dai passanti di fida da parte dei carabinieri alle 10.30 di ieri mattina una coppia che passeggia con il proprio cane tranquillamente per le strade di Gabice Mare ma non è una coppia qualunque sono stati trovati infatti positivi al test del coronavirus entrambi si sono sottoposti a tampone dopo aver accusato i sintomi del virus per questo dovevano starsene a casa e non entrare in contatto con nessuno invece hanno trasgredito la regola che in questi casi impone la stretta osservanza della quarantena ovvero un periodo necessariamente di isolamento per guarire e invece loro cosa hanno fatto? hanno preso il cane e se ne sono andati a fare una bella passeggiata a contagiare gli altri e hanno voluto condividere questa loro cosa insomma va bene questo è tra i contagiati tra coloro no scusate non tra i contagiati tra coloro che si sono messi in quarantena in attesa di vedere se è tutto a posto ci sono anche i politici in questo caso Andrea Nobili assessora urbanistica Andrea Marchionni consigliere comunale della Lega sono in isolamento loro dicono stiamo assolutamente bene non abbiamo nulla però insomma si chiede consiglio comunale a porte chiuse per ora Perugini il presidente del consiglio comunale di Pesaro dice no intanto arriva la comunicazione dall'Asuro ho avuto contatti con una persona contagiata e quindi chiaramente devo mettermi in quarantena devo stare in casa fino a lunedì ma nessuna paura anche perché dice non ho i sintomi la crisi è contagiosa invece priorità agli studenti Alba Pazzaglini presidente dei consulenti del lavoro sulle assenze per il virus spostare i pagamenti è inutile mentre questa fotografia che vedete sul resto del carino di questa mattina maschera antigasa si presenta al consiglio di amministrazione un commercialista cittadino per stemperare la tensione è un reperto della guerra del 15 e 18 ha voluto fare questa uscita così per sdrammatizzare Daniele Paci Fumelli che si è presentato alla riunione di un consiglio di amministrazione di un'azienda con una maschera antigas della prima guerra mondiale non dobbiamo entrare nella zona rossa dice invece il presidente degli industriali pesaresi gli imprenditori sono preoccupati Papalini di Confindustria dice ci sarebbe il blocco totale delle attività e l'isolamento quindi poi fa un richiamo alle banche che in questi giorni comunque continuano senza nessun problema e prendono pure gli interessi passivi gli associati della CNA prevedono cali del fatturato nel corso del 2020 il 68% ritiene possibile il ricorso alla cassa integrazione gli spettacoli rinviati ma Vinicio Caposela si recupera subito l'appello di Daniele Vimini a studiare adeguate contro misure sono tantissime le produzioni che sono saltate in questi giorni oltre 100 siamo veramente preoccupati dicono per le ricadute sull'intero comparto dice l'assessore al Comune di Pesaro finire in zona rossa sarebbe la paralisi Papalini lo dice anche sul Corriere Adriatico Papalini che è presidente di Confindustria Marche Nord si appella al senso di responsabilità il Comune di Pesaro chiede a regione governo di sospendere i pagamenti in scadenza centropagini invece Ricci che attacca la vita in diretta basta con le fake news il mondo dello spettacolo già perduti 600 mila euro spettacoli di eventi cancellati o da riprogrammare il settore rischia il collasso il promoter Bagnarelli dice se non si risolve subito pochi assorbiranno il colpo mentre sul terreno adriatico terreno adriatico out le marchi in crisi soldi ed immagine perdita da capogiro gli organizzatori non hanno ancora ufficializzato la decisione ma gareggiare tra una settimana sarà quasi davvero impossibile insomma il terreno adriatico che comunque è un'importante gara ciclistica anche con con la diretta televisiva e quant'altro è un bel volano per il turismo anche per l'immagine della regione ma sembra quasi difficile sembra quasi impossibile che si possa gareggiare fare disputare Urbino diventa sempre più vuoto invece reagisce la città con l'università chiuse i musei serrati è un po' surreale ma i commercianti tengono duro e brindano e mangiano lasagne Fabrizio Marcucci Pinoli dice o Pinoli dice i fatturati sono quasi azzerati ci sono cancellazioni un po' irrazionali la gente ha paura le attività rimangono aperte per garantire il servizio rinviate anche tante tesi di laurea ad Urbino e poi ci salta anche il film di su Ligabue la preoccupazione dello storico cinema Nuova Luce il gestore Marco Lazzari dice è molto preoccupato avevamo l'esclusiva di questo film la perdita in questo caso è davvero notevole e c'è chi chiede invece preghiere contro la psicosia virus il parroco di Candelara e Santa Maria dell'Arzilla Don Giampiero Cernuschi alle celebrazioni dice feriali vengono soltanto in pochi lezioni del catechismo sospese e le funzioni si celebrano in streaming mentre qui il cavallo della fontana della piazza indossa la mascherina qualcuno anche qui ha voluto sdrammatizzare il cavallo che dunque corre ai ripari dovremmo aver chiuso la pagina del coronavirus andiamo a leggere le altre notizie i titoli delle altre pagine sui quotidiani di questa mattina in edicola digestore siamo sulla pagina di Fano sul digestore referendum inambissibile c'è una competenza esclusiva ecco il verdetto della commissione il comitato rilancia neanche il consiglio comunale dunque può decidere la potestà della regione con delega a provincia e Ata manca il piano dei rifiuti dunque niente referendum per il digestore anaerobico che dovrebbe sorgere a Fano i tarli aggrediscono la pala d'arte del perugino l'intervento sarà curato dalla galleria nazionale delle marche ad di Urbino mentre sul digestore anaerobico il carlino scrive il referendum non si farà il comitato dei garanti ha ritenuto il quesito inammissibile perché la materia non è esclusiva del comune del vecchio dice dunque seri non può decidere nulla intanto Aset ha già pubblicato l'avviso per affidare lo studio di fattibilità sui tre siti l'importo è di 30 mila euro delitto grilli il giorno del gris spunta un DNA di uno sconosciuto il DNA di uno sconosciuto accanto a quello della vittima e di due degli imputati un profilo genetico ignoto ritrovato su un frammento del nastro adesivo con Sesto Grilli con cui Sesto Grilli era stato legato e imbavagliato ieri la procura per il coronavirus ha svuotato l'aula e ha svuotato l'aula e contagiato anche uno degli imputati il pubblico assente a differenza delle scorse udienze sogniamo a Carignano un albergo diffuso le comunità la comunità di 300 abitanti pronta a scommettere sulla rinascita del borgo intanto è in atto un processo dicono culturale importante recuperare la strada questa è una delle proposte che passa sotto la torre per farne un viale per il passeggio mentre c'è anche la leggenda che narra di una principessa Orianna imprigionata nelle grotte con l'amante c'era mi pare l'acqua se non ricordo male Orianna itinerari di bellezza da sfogliare invece è pronto il libro che promuove la provincia 12 pagine dedicate alla città di Fano Val Metauro la direttrice dello spaccio lungo la valle del Metauro c'è un asse dove si spaccia droga che è l'asse Fossombrone Fano che registra le più importanti operazioni antidroga degli ultimi tre anni il focus iniziato con l'inchiesta circoli circoli viziosi poi una raffica di arresti con vari blitz da parte delle forze dell'ordine in particolare dei carabinieri e poi da Marò da Fossombrone un passaggio pedonale rialzato alle mosse residenti preoccupati per le condizioni di rischio del traffico mentre dalla pagina della valle del Cesano incastrati dalle tracce del DNA terzo profilo non identificato parliamo del delitto Grilli il colonnello del RIS in corte d'assise prove certe su Lanza e Franco De Luca ma c'è questa terza terzo DNA che non non è stato identificato uno degli imputati invece si è presentato in aula con guanti e mascherina per proteggersi dal coronavirus a Marotta invece per le scogliere arrivano 90 mila euro l'annunciolo da Federico Talei consigliere regionale di Italia Viva altri 200 mila messi a disposizione da parte della regione a Sassoferrato di scarica abusiva settantenne dei guai impresa edile di Piobbico stava lavorando all'acquedotto di Sassoferrato e gettava i detriti in riva ad un torrente le analisi dovranno stabilire l'entità del pericolo la gravità del reato è compiuto dipenderà da questi risultati poi sotto invece da Fossombrone è vietato sparare alle processionarie e quindi c'è un po' di caos soprattutto per quelli che cercano il tartufo perché il rischio di invasione nelle campagne nelle campagne dell'entroterra e c'è la vita di molti cani a rischio perché se i cani ingeriscono le processionarie è molto probabile che ci lasciano le penne dice Nicola Montoni che è un tartufaio di Fossombrone ma tutto questo nasce questa preoccupazione nasce dal fatto che la Questura ha vietato di sparare con i fucile da caccia sui nidi di queste processionarie di questi lepidotteri che sono infestanti anche molto pericolosi che sono dannosi sia per le piante le pinete delle cesane ma anche per i cani dei tartufai siccome la Questura ha vietato di sparare adesso il problema è che questi continuano queste processionarie a proliferare un nostro collega racconta sempre Montoni un nostro collega di Monte Felcino ha dovuto spendere 400 euro dal veterinario per salvare il suo cane un cane da tartufi infatti non è soltanto un amico per i tartufai ma è anche un investimento mentre sulla cronaca sempre del Carlino cerca di vendere immagini religiosi ma ruba un portafogli i carabinieri di Acqualagna hanno incastrato un truffatore che aveva preso di mira un'anziana aveva detto che veniva dal nord Italia che aveva perso il lavoro insomma aveva in qualche modo cercato di convincere questa donna che aveva preso anche un senso di compassione nei confronti di questa persona un sessantenne che tra l'altro ha anche precedenti di polizia e quindi le ha venduto queste immaginette sacre questa donna le ha dato 10 euro ma lui alla fine con un trucchetto è riuscito a portare via il portafogli l'unificazione invece siamo sulla pagina di Vallefoglia dal primo di giugno adesso si può e si deve fare stiamo parlando della fusione con Pesaro di Monte Ciccardo Barberini dice bisogna evitare che Monte Ciccardo torni al voto con le regionali ma ci sono delle ragioni che non sono soltanto quelle legate alle elezioni regionali di fine maggio o primi di giugno l'altra ragione economica non è un motivo non c'è solo questo come motivo per anticipare la fusione ma il comitato del sì dice i contributi dello Stato anziché arrivare a fine 2021 arriverebbero a fine 2020 ecco perché bisogna fare presto a Urbino rifiuti il porta a porta non ha funzionato e dunque nel centro storico si cambia un cambiamento dovuto al fatto che la raccolta porta a porta per l'indifferenziata creava dei disagi nella tempistica e anche nel decoro così ha detto il sindaco Gambini e poi danni dei cinghiali agricoltori sono sfiniti il sindaco Gambini si dice indignato dall'esposto minacciato dall'ambito territoriale di caccia PS1 e poi fino a 300 mila euro invece per la difesa della costa Marotta contributi da parte della regione in arrivo interventi anche sul litorale nord pronti 25 mila euro per la progettazione e 62 mila e 700 per i lavori altre risorse se il comune partecipa mentre da Senigallia la cronaca gli trovano ancora droga e quindi è stato fermato i carabinieri dopo tre giorni dal primo arresto hanno scovato altra eroina nella casa di un 52 52 N mentre verso le elezioni comunali di Senigallia possibile questa è la lista si schiera andiamo con Volpini il centrodestra oggi si riunisce invece per provare a trovare un'intesa e soprattutto un candidato unitario con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito per tutti gli aggiornamenti sul coronavirus e vi ricordo che è possibile iscriversi unirsi al nostro canale Telegram quindi se non l'avete ancora fatto unitevi insieme a noi per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale poi c'è il sito internet occhianotizia.it noi ci vediamo stasera invece per il telegiornale alle 20 e 30 arrivederci a tutti i nostri